bella ragazzi qui abbiamo divino 87 e oggi stiamo su ib allora se ci riesco questa parte finale è rimasto ha già arrivato unicolo dove c'era meri a rompere le palle ti raggiunto mi sono salvato l'ultimo brucia allora non c'è altra opzione probabilmente ah perché probabilmente ho continuato da morto io ok io non so cosa fare però per favore fermati ma c'è stile durissimo ora morì ora muoio bello ragazze possono essere spaventose vado a chi parli se stai parlando da ib una ragazza bene in ogni caso bruciando abbiamo fermato la sua rabbia sta bene il vetro bla 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 mi sembra mi sembra che stia bene bene andiamo meri un po ricardo ma come mai la cartella è andata via forse era reale e qualcosa cos'è è stato massacrando le orecchie questo grazie di usci maia coltello e cd grazie di usci maia coltello e cd 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 a l'uomo o questo posto per il normale vuoi così buio guarda dove metti i piedi costruire l'anello fermo fantastico sono all'inizio questo posto di sembra familiare sono all'inizio no 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 aspetta brutti ricordi io sto lontano al finestre volantina dove mi ha insegnato a me si salva che bei ricordi questo quadro qua word uno può entrare non si trova indietro il tuo tempo sarà perso vuoi saltare dentro non non conosci questo questo tipo di cosa ok lo smetto cos'è questo grande murale? molto fabbricato ehi ma è le forme della galleria questo vuol dire che questo tanto dentro possiamo tornare lì ma wow cos'è questo flash? cosa? ib guarda il dipinto è la nostra chance ib guardi ib guardi ib guardi si vorrei che sposi da sola io ib guardi ti aspetta tutti e due ib guardi coi facendo spiegati i piedi con me ib guardi quote te l'ho detto, non seguire gli sconosciuti, ehi, non spaventarti, ok, starei bene, Ib ascolta sua madre, non andare con gli sconosciuti, vuoi non vedere più la tua madre e il tuo padre ancora? Ib, vieni, vieni con me e prendi la mia mano, Ib, no cazzo, devo decidere chi scegliere, ora vai con la madre, vai con Gary, allora, ho tanto visto la foto dell'occhio alla mia gatta, allora, cazzo che scelgo? Ora, consideriamola così, la madre è fitta, quindi vado con Gary, non dirmi ho fatto a scelto sbagliato, non ricordi dove sei stato? Sono tornato all'inizio Signore, senta, io consiglierei di stare lontano da questa donna, eh, da te la mia data, parecchi problemi, che c'è la bambina, cos'è che è la statua? Ah, questa è chiamata qualcosa dello spirito apparentemente, con altra scultura, sento qualcosa, ma non capisco cosa, no non capisco perché, ah, mi dispiace di averti dato qualche problema, non essi che esiste, ciao, è stato tutto la nostra immaginazione, non c'è, sei suib, oh, cosa sto ricordando, wow, questa è veramente bella, rappresenta il cuore di una persona, beh, in un certo senso era la mia vita no, questa qua, eh, sono sicureti che questa bellissima rosa sia nel tuo cuore, sì, andiamo a guardare intorno, hai altro a vedere? Spero che ti piacciono tante altre cose and, eh, frammenti della memoria bellissimo sto gioco, raga, è uno dei pochissimi giochi a cui batto le mani, fantastico, no raga, allora, lo devo dire con tutta la mia sincerità, questo è uno dei giochi più belli che io abbia mai fatto, certo, la trama diciamo è la sua, eh, alcuni di cui sono un po' complicati, però in certi momenti riesce a trasmettere un po' di paura in certi momenti, comunque è un gioco bellissimo, non lo metto in dubbio, eh, spero vi siate divertiti a guardare sto gameplay, come mi sono divertito io, e quindi niente, lasciate un mi piace, un commento e iscrivetei al canale, ci vediamo nei prossimi gameplay, video, qualunque cosa veda fuori, adesso mi piace, un commento e iscrivetei al canale, ciao! iscrivetei al canale, ciao!